questo video l'ho posto da un tennis club non lontano da san siro il club oggi si chiama get fit bei ricordi in questo in questo tennis club perché c'era sempre tanti anni fa il torneo tennis del milano organizzato come sempre da mauro tavola sempre promotore di queste iniziative meravigliose meravigliose che servivano da collante c'erano i giocatori gioca veniva serginio gans tanti giornalisti tanti giocatori di tennis di buon livello come me diciamolo piano e quindi respiro qui c'è stata la festa dell'addio di maldini la festa per leonardo qui beckham ricordo dopo una l'ultima partita a san siro venne qui lo salutare si trovava bene bei ricordi ho aperto una parentesi per 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 diciamo trasmettervi le emozioni di questa location elegante qui non lontano qui ci sono delle case dietro di me qui abitava biro venivo sempre qui per oboban venivo qua per le interviste per guida il campionato la mattina della domenica dopo le partite e tanti giocatori hanno sempre vissuto la più avanti c'era anche l'enclave nerazzurra c'era ronaldo quindi un posto che sa molto di giocatori di squadre milanesi ma veniamo subito veniamo subito al tema il tema signori oggi è torino milan arbitro doveri signori rati al var ed è un tema caldo dobbiamo lasciare stare un attimo il discorso mercato il discorso futuro nel prossimo video vi darò le ultime notizie di formazioni ma ormai penso che non ci siano più dubbi penso che non ci siano più dubbi penso proprio che il milan possa essere quello con megnan quello con megnan calabria tomori callulu teo hernandez che vorrebbe festeggiare con un gol speriamo che sia così fortunato come scevchenko nacque il figlio e segnò un gol contro la samdoria speriamo che possa dedicarsi una grande giornata dedicata poi a teo junior per quello che riguarda poi il centrocampo tonali tonali con tonali con ben nasser che si dovrebbe giocare lui se le mecher preferito a diaz a sinistra leao davanti giro con ibraimovic pronto a subentrare per quello che riguarda milan qualcuno una cosa che non sopporto pensa legittimamente pensa che il milan soffra la pressione soffra la pressione dell'altezza ma il milan ha superato migliaia di ostacoli in questi due anni non credo che questo sia il problema che possa attanagliare i giocatori del milan è un problema in questo momento di guizzo nel gol l'anno scorso segnò sette gol contro il torino me ne basterebbero molti meno ma sarebbe importante che il milan tornasse al gol tornasse al gol ma questo sarebbe fondamentale e sarà fondamentale grazie anche a una costante presenza dei 90 minuti di leao il milan dipende molto da leao non solo in termini di gol ma soprattutto in termini di aprire le difese avversari aprire le azioni aprire le possibilità per gli inserimenti degli altri centrocampisti oppure dei giocatori d'attacco che potrebbero essere beneficiati dalle fughe il passaggio poi in mezzo tipo venezia speriamo che il milan possa andare in vantaggio presto perché quando è andato in vantaggio presto nelle ultime partite vedi salerno vedi udine poi non ha gestito quando invece è andato in diciamo non subito vedi cagliari vedi empoli poi invece è riuscito a gestire bene deve trovare ancora gli equilibri dopo due anni e signori gli equilibri sono fatti di tanti piccoli dettagli di tanti piccoli condizioni di forma ed è per questo motivo che il milan deve riuscire a equilibrare questa situazione ci ha lavorato pioli speriamo che il milan sia ispirato che abbia delle buone dei buoni dei buoni palloni giro e poi speriamo che possa entrare con qualche minuto di più anche zlatan ibraimovic è stato un po' criticato stefano pioli nell'ultimo match di lunedì quello contro il bologna perché molti avrebbero voluto vedere sia sia girù sia zlatan ibraimovic in questo finale questo finale dove serviva prospressione verso la sulla sulla difesa del bologna avrebbero voluto tutte e due in campo vedremo nel corso della partita di torino quali saranno le decisioni di pioli per quello che riguarda zlatan ibraimovic e il suo futuro e vado a ricordare che come ricordava il corriere della sera ma ve l'avevo già accennato in precedenza il contratto è nel cassetto del quarto piano di casa milan è un contratto è un rinnovo di ingaggio un rinnovo di contratto è un ingaggio intorno ai 2,5 2 milioni e 5 però tutto dipende da come si sente zlatan ibraimovic non credo che sarà il milan a imporre una decisione a zlatan ibraimovic o imporre la sua decisione a zlatan ibraimovic sarà zlatan ibraimovic che deciderà quale sarà il suo futuro in base alle sue condizioni di forma questo io mi auguro che possa ritornare presto nelle condizioni magari non magnifiche al suo massimo livello del inizio di stagione però all'inizio di stagione signori entrava dal primo minuto ed è già questo è un viatico importante è un viatico molto importante è un punto di partenza molto importante partire dal primo minuto non so se ce la farà in questa stagione non mancano tante partite ma io me lo auguro parole interessanti da parte leggiamo un po ricordiamo un po quello che è successo oggi a livello di prime pagine dei giornali le parole di le parole di giovanni carnevali il plenipotenziario del sassuolo che proprio ha detto che berardi sarebbe proprio un giocatore da milan lui ovviamente vende la sua meravigliosa il suo meraviglioso prodotto e ne ha tanti da traorea raspadori a scamacca allo stesso berardi vediamo il mentre per quello che riguarda renato sanchez e lo stesso asensio lo ribadisco ancora l'ostacolo è l'ostacolo è l'ingaggio tutte e due vogliono 6 7 milioni ingaggi che il milan non può certo offrire proprio per principio e per sue strategie aziendale e filosofiche invece per berardi la situazione è contraria non ci sono grandi problemi per quello che riguarda l'ingaggio che potrebbe essere valutato intorno ai 3 ai 3 milioni 3 milioni e 2 mentre ci sono dei potrebbero anzi esserci dei grossi ostacoli per quello che riguarda il cartellino il giocatore potrebbe essere valutato oltre 30 milioni anzi è stato chiaro carnevali la base ed asta per i nostri gioielli e 30 milioni 30 milioni non credo che il milan li possa offrire a berardi si augura il milan parliamoci chiaro di poter offrire un 20 più 5 se poi il sassuolo deciderà di non accettare questa offerta il milan molto serenamente andrà su altri giocatori come già capitato la linea del milan è molto molto chiara continuano a essere tutti sicuri riguardo all'acquisto di botman e renato sanchez io ribadisco botman secondo me verrà al milan perché perché è un giocatore che è diverso da bremer io non so chi sia più bravo bremer è straordinario ma le caratteristiche fisiche di di botman si conciliano molto con quelle di tomori e adesso di calulu e poi arriverà chi è per avere e gabbia 5 giocatori assolutamente sul piano della della dell'organizzazione difensiva interscambiabili ecco perché invece bremer ripeto giocatore di una qualità straordinaria di una forza straordinaria di una classe straordinaria però ha molti caratteristiche simili a quelli di tomori e calulu cioè l'aggressività la velocità non è un giocatore altissimo e invece al milan serve anche proprio giocatori alti che possano andare a che possano andare a contrastare soprattutto in europa i gigantoni i gigantoni avversari per quello che riguarda l'europa mi sembra di capire signori mi sembra di capire che la pista origi sia proprio una pista bella 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 calda e ho letto proprio milan news questa mattina e sono d'accordo con il 70 per cento che approverebbe l'operazione e a centravanti non ce ne sono tanti se io devo andare a prendere un centravanti forte pagarlo 30 35 40 e poi non avere i soldi per il giocatore di fascia destra o per il numero 10 o per il numero 8 io preferisco andare da origi che magari non sarà l'assoluto campione ma a prezzi normali assoluti campioni non sono sostenibili e non sono raggiungibili dal milan io prendo un centro avanti di una che si allena e gioca raramente in una squadra oggi abbiamo visto come ha vinto facile col benfica oggi la più in forma d'europa che si candida ancora noi tifosi del milan egoisticamente speriamo di no perché potrebbe avvicinarsi troppo addirittura raggiungere non ricordo il numero di vittorie vogliamo essere noi secondi con sette vittorie dietro in questo momento l'inavvicinabile real madrid quindi tifiamo a maggior ragione per carletto proprio per una questione anche romantica di rimanere secondi in classifica nella nella classifica delle delle squadre che hanno vinto la champions league ebbene origi si allena con club si allena con questa intensità abbiamo visto che i giocatori che arrivano dalla dall'inghilterra fanno sempre la differenza uno su tutti che giocava non tantissimo anche abraham che è un giocatore di eccellente livello di spettacolare intenso bravo forte buoni piedi ecco origi è un altro giocatore che credo che abbia a questi livelli sono d'accordo col 70 per cento dei tifosi che hanno detto origi per la questione economica per la questione tecnica è l'ideale giocatore per poter permettere al milan poi di investire in altri su altri ruoli in altri ruoli se ricordo ancora che oggi è il primo giorno della della vendita delle mie video e delle mie audio esultanze o delle mie esultanze a livello di immagine con la andando sulla piattaforma piattaforma variable e si può acquistare quindi sono entrato in questo mondo nft io mi auguro che ci sia ci siano degli amatori del milan e non di pelle gatti delle grandi imprese del milan che io ho avuto la fortuna di raccontare via audio nelle radiocronache o nelle telecronache se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti e attivate la campanella